Giorno di Santo Stefano, le piste sono praticamente deserte, un freddo che è abbondantemente sotto lo zero, ci sono però dei temerari che non demordono e vogliono sciare anche oggi. Impianti in funzione sulle piste della Presolana, ma le rigide temperature e la nevicata annunciata e puntualmente arrivata hanno scoraggiato gli appassionati dello sport invernale per eccellenza. Anche se qualcuno ne apprezza il lato positivo e ne approfitta per sciare in tutta tranquillità. Siamo venuti dalla Grecia per sciare qui in Italia perché ci piace e siamo molto felici perché è un bel paese, è un bel posto qui. Ma stamattina il tempo non è proprio dei migliori? Ben coperti non c'è problema, non c'è tanta gente però il posto è migliore così perché non aspettiamo e il tempo no, ben coperti è perfetto. È la mia prima volta che faccio lo snowboard e ho pensato che qua era bello perché non c'è troppa coda e non c'è fila per la teleferica. Un temerario insomma, le piace talmente sciare che non guarda nemmeno il tempo. Situazione estrema no madonna, per questo po' di neve non è niente. Se non c'è la neve non si deve andare a sciare ma se c'è si va lo stesso. Qua siamo sempre venuti a sciare anche quando eravamo piccoli. Anche a Santo Stefano la scuola scipresolana è pronta a garantire lezioni e ad accompagnare i provetti sciatori verso le meravigliose esperienze della discesa, dello slalom e dello snowboard. L'unico problema che abbiamo avuto fino a oggi era la neve. Domenica scorsa, l'weekend scorsa avevamo delle piste meravigliose, poi l'acqua ci ha rovinato un po'. Stannotte è nevicato di 10 centimetri, ha rinnovato le piste. Adesso stiamo aspettando i clienti. Come tutti gli anni il periodo migliore è dal 2 in avanti. Quest'anno poi le vacanze sono abbastanza allungate e vedo che è tutto esaurito.